Il dolore per i peccati degli uomini. Figlia mia, penetra nel cuore sacratissimo del mio Gesù, per vedere l'immenso dolore che egli prova per i peccati degli uomini. Il peccato è un atto di ribellione a Dio, alla sua legge e al suo amore. È preferire ciò che è umano a ciò che è divino, ciò che passa a ciò che dura eternamente. Il peccato è rifiutare la redenzione, è sciupare il sangue di Gesù che egli sparse con tanto dolore fino all'ultima stilla. Il peccato è preferire l'inferno al paradiso, il male al bene. Tutto ciò che è peccato crea rovina e male nell'anima dell'uomo. Distrugge la grazia e impedisce il progresso nella virtù. Chi pecca diventa nemico di Dio, rompe i legami con Lui, si dichiara non bisognoso del suo aiuto e provoca nel cuore di Gesù una ferita profonda. Se vuoi consolare questo cuore addolorato dalla moltitudine di peccati che ricopre la terra, cerca di fuggire ogni anche minima colpa. Quelle imperfezioni di cui capisci la gravità, e che non cerchi di superare, sono spine che circondano il cuore del mio figlio divino. L'offesa che una persona riceve si può classificare più o meno grave, a seconda di chi è colui che l'infligge. Se tra i due vi è un legame di amicizia, l'offesa sarà certo più profonda anche se in se stessa fosse minima. Considera, figlia mia, le grazie di cui Gesù va ricolmando molte anime, e pensa a quanto grande deve essere il suo dolore, per quanto poco esse corrispondono. Se vuoi godere dell'amore del cuore di Gesù, umiliati dopo ogni mancanza, e riconosci la tua debolezza. Ma fa anche quella frase che solitamente dici. La morte, ma non peccati, sia sincera espressione di una volontà decisa. Oggi direi più volte. Gesù, morire, ma non peccare.